Supereroi, supereroi, oggi saremo dei supereroi Oh mio Dio, Steph, sono felicissima! Io adoro essere un supereroe, l'ho sempre desiderato, sono super felice oggi Sì, ma ti devo mettere già in difficoltà, devi scegliere un solo potere, Fere Come uno? Ne devi scegliere soltanto uno Non li posso provare tutti Ne potrei usare soltanto due tu e due io Quindi per ora ne devi scegliere uno Inizia a guardarli attentamente e decidi So che non sarà semplice decidere, però lo devi fare, Fere È la prima parte che tu devi fare Tu chi scegli? Io ho già scelto Tu chi scegli? Io scelgo lui Io scelgo lui perché ha un potere incredibile Guardami Oh mio Dio, sei bellissimo! Vuoi vedere il mio potere? Sì Sei sicura? Sì Oh mio Dio, Steph, dove sei finito? Steph, sei veruscolo! Beh, giustamente sei Guarda il mio schermo, ottimo, è gigante Sei una formichina, mi sembra giusto È fantastico Guarda come saltella! Guarda, riesco a passare anche in mezzo a level Riesco a passare in mezzo a qua Anche nell'acqua riesci ad andare, Steph? Aiuto! Riesci a nuotare? Fere! Steph, ti devo raccogliere! Rieccomi Tutto a posto Tutto a posto Devo abituarmi al mio potere, è troppo forte Hai scelto, Fere? Flash Flash? Vai sul classico? Flash Io adoro flash Sei vestita anche in un flash, Fere Porca miseria Cosa vuol dire? Che sei stata velocissima a metterti la tuta Beh, perché non sono come te, Steph Comunque ti sta male Steph Vuoi combattere? Tanto non so neanche Siamo già qui Esatto, non so neanche i tasti Perché li ho scritti qua in un foglietto Perché sono tanti i tasti Quindi li proverò Beh, hai provato a premere shift? No Prova Flash Sono un flash rotto, Steph No, io credo che tu non sappia usare i tuoi poteri A differenza di Ant-Man che è fortissimo E ragazzi, come va? Io sono Fere, Nicky E sto, Steph, che sto giochendo a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft In cui proveremo com'è vivere da supereroi Giustamente, Steph Oh yes, oh yes Allora, Fere, hai scoperto come si corre alla fine? Eh, no No Dico la verità Allora, vediamo un pochettino Premiamo i tasti che ho scritto qua Ok Ok, ora sto correndo Mi sono in castra Steph, aiuto Allora, eccomi qua Guarda come corro Non mi vedi più, Steph Non mi vedi più Guarda, lascio la scia Sì Lascio la scia Sì Sto andando, mi dice anche la velocità Sai quanto sto andando, Steph? Ahà 200 km orari Una velocità che tu non puoi neanche sopportare Perché esploderesti, Steph Aspetta, la disattivo un attimino perché mi devo calmar Eccomi qua, eccomi qua Lasciamo la scia Da vedere Perché non avevo la scia? È bellissimo VTN Ok Corri un po' in giro e guarda il mio schermo Ok Vai Ci provo? Oh mio Dio Ma proprio come il vero Flash Sì C'è identico Sì C'è da dire anche che, Steph È molto faticoso correre così Ho solo tre polletti Sto c'è un cuore di fame Sto letteralmente Come nel telefilm Perché infatti doveva mangiare fisso E aveva diventato delle barrette Delle cose speciali Beh, perché giustamente bruci un botto di calorie Sì Allora, anche io voglio provare un pochino a tutti i miei tasti Vediamo cosa succede se premo J Ok Nulla Nulla Perché abbiamo un sacco di tasti Ma non sappiamo mai quali funzionano Nei vari personaggi Ok Ok Io credo che il mio potere Ah, tutti puoi solo rimpi Ma Potrei attaccare E fare qualcosa, Steph Beh, credo Mi ha dato un colpetto No, per niente Non mi ha tolto neanche metà cuore Sicura? Ora sì Ora sì Ora sì Allora, vediamo un pochettino M Mi è successo qualcosa Cosa hai fatto? Non lo so Perché ha un effetto strano Tipo? Però non so Cioè, ce l'ho segnato alla destra Un'iconcina E cosa ti dice? Niente Voglio qualcuno che quasi di sicuro combatte Sai chi voglio provare? Mh Rimanendo sempre in tema di Flash Killer Frost Mh Lei tecnicamente ghiaccia Fa delle magie Quindi qualcosa Ma lo deve fare Io non l'avrei mai presa Io sinceramente non l'avrei mai presa Io mi prendo Sei indecisa Trai Carina Steph Mi stanno bene i capelli biondi Sui capelli rosa? No Come no? No Ma sei triste? No Leggi con shift che cosa ti dà Così almeno sei già che poteri hai Ok E soprattutto se cambiartelo subito Io vado di Iron Man Vai Oh yes Oh yes Allora Oh bellissimo Che c'è? Cosa può essere secondo te? Il cryokiness Non ho idea Ok E poi ovviamente Il caldo mi indebolisce Perché sono Killer Frost Ok Prova a fare Tasto destro Con questo lo ricarico Guarda Ricarico una barra Ok E mi si ghiaccia la mano Non so se tu lo vedi Sì Bam Ok Guarda Bam Lancia le scheggi di ghiaccio È bellissimo E tu lo vorresti mettere a paragone Con questo Davvero C'è tu È fantastico Allora È fantastico Aspetta Guardami Mi stai guardando in faccia Sì un attimino Stavo provando Ciao Ma ti puoi togliere Che me lo metto Aspetta ho bloccato Il pc Ok Rieccomi Piano Calmati Fallo piano Ehi Sono Steph Sono Steph In realtà sono io Iron Man Bellissima Però Non è il mio unico Ah prima di tutto Smettila Così comunque lancio sempre Ok queste sono piccoline Però posso caricare Vedere Hai visto? No L'Aeroman è comunque il più bello di tutti Scusami Eh ma è ovvio È sempre così Ma perché ho scelto Killer Frost? Volevo Iron Man Lo sapevo che avrei dovuto scegliere Iron Man Accidenti Aspetta 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 Perché i miei poteri non sono ancora finiti Guarda Come? Ma stai quello che ne ha Oh mio dio Tu sei uscito dall'armatura e rimane a picchiarmi Sì E se premo il tasto destro Lo riapro E ci rientro Dovrei caricare il colpo Boom Eh bello Bello Allora Quindi praticamente Io premo Jay E ne esco fuori E lui picca Ok No smettila Io mi cerro vicino Guardate come si apre Prendo E rientro dentro E riprendo il potere È una roba incredibile Allora io ne voglio provare un altro Ma Fede Stai già andando entro alle regole? Sì Non ti vergogna Meno un po' Steph Eh Riesci ad aprirmi questa cesta? Sì Perché io lancio cose Col tasto destro Non riesco ad aprirle Mi prendi la mia arma Grazie Grazie Ok Questo ovviamente è il classico rampino Ok Aspetta Però devo provarlo su qualche struttura Sembra Uno di quelli che si restano per carnevale Con il vestito dei cinesi di Batman Perché mi sei prendo in giro? E che corre in giro così Aspetta Mi vedi? Mi vedi Steph? Sto pezzolando Rettifico Ok Aspetta arriva anche lì Eh vabbè Sono una stop È un super eroe imbarazzante Ok aspetta Tu questo non lo sai fare Cos'altro sai fare? Scusami Allora poi ho visto che con tasto destro lancio queste specie di Caramelle? No di shuriken a forma di Batman Vedi? Giustamente sono a forma di pipistrello Ok 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 Cos'è sta roba? Non lo so fare Ah forse cambi la cosa da lanciare Sì Oh mio dio Aspetta E questo che cosa fa? Ok Finita Ahia Ma la smetti Ma l'ho fatto io Me l'ho fatto in ritardo Eh certo Ah ecco perché me l'ho fatto in ritardo Perché qui in alto a destra Vedo che si ricarica Quindi cambiarma Un tempo molto lungo E ti toglie il cooldown Perché hai altro Ok Sì però ovviamente il tempo di ricarica non è che sia zera Queste sono belle Non mi vedi? Dove sono Steph? Dove sono? Dove sono? Basta valare Vabbè Ciao Vediamo gli altri tasti Ok Aspetta aspetta Beh non faccio danno Non posso tipo ricaricare il potere tantissimo Fermo Steph Allora la M fa pressa poco la stessa cosa Con la differenza che mi metto Uniti proprio let the flight The repute surblast Ok Overing And metal skill Punch damage Più 6,5 Quindi Che fai Steph? Non faccio danno Allora io con questo Ho messo una modalità Che mi dovrebbe permettere di picchiare a pugni Ti faccio male? O non troppo? No perché ho l'armatura Davvero terribile in quel costume Ti l'ho detto Sembra un costume Dei poveri Vero? Ma non è vero Non sono un costume dei poveri Dovrebbe starmi meglio Invece non mi stanno mai vero Vabbè comunque ancora io non avevo volato un po' Quindi scusate ma È ora di usare il mio potere Come si deve Volare Ti raggiungo Steph Ti raggiungo Ti raggiungo Dove sei? Come Iron Man Che però picchia male Perché sono Ma vado tra i palazzi Guarda che rampino è formidabile Guardami Ui Sembro Spider-Man Sembro Spider-Man più che Batman Sinceramente Eh Guarda io invece ho imparato a volare Ops Un po' Pazzo la lontano mi ci sono schientata di faccia Dicevo Guarda il mio schermo Ho imparato a volare un po' in tutti i modi E anche io Ad esempio Volo dritto Vedi questo qua è un po' come se fosse Capito Con non nuoti Però a stile libero Ah ok E poi ho imparato il dorso Vedi Hai visto invece come si userebbe nel rampino Stef Sì 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 è proprio un talento Sei nata a portata Per usare Ma come faccio? Dove è finita dall'armatura? E che ne so Ferre Lo sei tu Dove è finita? Io l'ammazzo Ma come mi ammazzo? È il supereroe peggiore che abbiamo mai visto Ma non è vero È qua È qua l'ho trovato No Flash era mio però Io mi prendo Iron Man Io mi prendo Iron Man Sì peccato che ce l'ho nell'inventario Iron Man Sei un disgraziato Non mi puoi rubare tutto Stef Non puoi Io l'odio Io l'odio Ciao Ok allora Questa qua era la versione Formula 1 Adesso Mangiamo un po' Mi è venuta fame Ok Teoricamente C'erano dei poteri per Flash Se ricordo bene Il Flash Ring Se noi indossiamo questo Flash Ring Cosa è successo? È per mettere e togliere l'armatura Come nel telefilm Eh beh sì Giusto 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 Io sono uno Stef normale Ma adesso sono Flash Adesso sei Flash Ho i poteri anche no 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 Sì è stato troppo Peccato Vuoi provarmi i pugni Stef? Vai va bene Allora io ho pugni fortissimi Si vede Allora sui mob avevano tanto effetto Su di te no perché è quell'armatura Quindi levatela col tuo anello Ok Vediamo se adesso posso picchiare uno Stef con i miei pugni Ho fatto male Eh ora ti ho fatto male Metà vita E ti ho sbalzato Sì vedi C'hai pugni forti Stef Tu non hai pugni forti Poi ti tiro anche questi Cosa farà questo? Se a me permette Aspetta Ok Se io faccio così No vai via Sto provando Cioè i pugni forti Non mi toccare No non capisco Adesso facciamo una cosa Stef Aspetta No Divento l'anti-flash E tu sei morto Allora vediamo un pochettino Vediamo un pochettino Super speed Enhanced reflexes Cellular regeneration Accelerated Percipation Ah Stef Non faccio No l'anti-flash Ti devo uccidere A quanto vai? Molto più veloce di te Quanto? 250 km orari Aspetta Io vado a 150 Ma L'anti-flash è più veloce Ma in giustizia Infatti da un botto di Facciamola a risulta site Aiuto Dov'è? Caduta l'acqua Qui giù Eccomi Eccomi Allora ok Quindi sono super veloce Con questo tasto L'hai capito Che cosa ti fa M? Cioè l'hai capito? Vedi che sono ando a rallenti Ah Anche io Ah ma allora è questo effetto Ma l'hai messo tu o l'ho messo io? L'ho messo io Ho capito adesso Sei quello Steve Che ti dicevo che si trascina Con M Aspetta L'ho tolto Infatti torniamo normali Quindi possiamo fare Aspetta Aspetta Ci corriamo incontro Poi premiamo M Andiamo a rallenti Aspetta Aspetta Però corri dritto Quindi devo attivare la corsa Ok vai Ok Sei pronto? Sì No però Dove sei? Dobbiamo correreci contro Andiamo verso qua Ok vai 3 Oddio 2 1 Via Via M Guardaci Guardaci Ciao 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 covenant Ciao Grazie a tutti